Nella giornata mondiale dell'acqua è inevitabile ricordare qualche dato. Le famiglie abruzzesi nel 2022 hanno speso 454 euro per la bolletta idrica contro i 487 della media nazionale, con un consumo di 192 metri cubi l'anno. Altro dato, l'Abruzzo si conferma tra le regioni più critiche in fatto di dispersione idrica. L'Istat rileva il dato del 59,6%. Questa mattina al Palazzo della Regione a Pescara è stata proposta l'istituzione di una sesta commissione che di fatto modifica il regolamento regionale. L'obiettivo è quello di avere un tavolo permanente che si occupi di servizio idrico integrato e di cambiamenti climatici e che porti avanti, ha rimarcato Sara Marcozzi, i risultati della commissione di emergenza. Credo che la gestione dell'acqua non possa più essere pensata a compartimenti stagni, e cioè 5 consorzi di bonifica, 6 società di gestione, l'Arap, tutti i soggetti che poco comunicano tra loro, per cui credo sia necessario un presidio permanente, dunque una commissione consigliare permanente che si occupi del grande tema acqua in tutti i suoi aspetti. Ho presentato una proposta di legge per l'istituzione di questo, il Presidente Sospiri, in qualità di Presidente del Consiglio, evidentemente ha condiviso la visione che sto dando al tema acqua e siamo qui per presentarla. Tra gli obiettivi, efficientare i sistemi esistenti grazie alla digitalizzazione e alla distrettualizzazione, ma anche diversificare le fonti, soprattutto per far fronte ai periodi più siccitosi e iniziare a pensare alla industrializzazione del servizio. Va da sé che sono troppi i consorsi in Abruzzo se rapportati a quelli delle vicine regioni. Mancano le infrastrutture e nei decenni passati poco si è fatto per implementare le infrastrutture. Una delle conclusioni alle quali siamo arrivati è che quello che l'Abruzzo dovrà fare è interconnettere le reti, dunque evidentemente cambiare la governance delle sei società di gestione, fare una grande società unica e interconnettere le reti degli attuali sei gestori per portare l'acqua in tutto il territorio d'Abruzzo dove serve.